Il centro storico di Cremona si fa teatro di nuove violenze, questa volta durante le ore pomeridiane. È caduto infatti intorno alle 16.30 di ieri che un negoziante sia stato aggredito da una baby gang di stranieri, i quali lo hanno spintonato verso l'interno del locale commerciale dopo che il signore aveva intimato loro di fare meno baccano per non disturbare la clientela. Infastiditi da rimprovero, i ragazzini hanno cercato di prevaricare su di lui senza paura di ritorsioni. Per noi le ha preoccupati dei visi attoniti dei passanti che ogni pomeriggio passeggiano tranquilli in corso Vittorio Emanuele II, luogo in cui si è consumata l'aggressione. Il commerciante non ha procurato ferite particolari ma il caso non è isolato. I negozianti che hanno assistito alla scena ci informano che la baby gang è solita passeggiare sul corso disturbando il lavoro di tutti i commercianti, bivaccando e litigandosi facendo preoccupare non poco i lavoratori e la clientela stessa. Al pomeriggio in realtà è molto preoccupante, nel senso che ci sono questi, sono sempre in gruppo quindi l'unione fa la forza e loro si sentono titolati a fare quello che vogliono. Al pomeriggio noi teniamo chiusa la porta, a chiave. Le ha assistito all'evento di ieri? Ho assistito nel senso che loro urlavano e c'era questa foga in insultare qualcuno ma non avevamo capito che poi era un commerciante qua vicino a noi. Però, ripeto, questo gruppo ti porta un po' di timore, un po' di paura. Non c'è da fare allarmismo, dicono, ma in realtà c'è dell'allarmismo comunque molto. Come commercianti e anche i cittadini hanno ormai paure, sono indignati da ripetersi degli eventi violenti nel centro cittadino. Sta diventando preoccupante questo qua. Quindi le forze dell'ordine dovrebbero intervenire, anche l'amministrazione comunale di fare più attenzione a questi casi. Sì, sono molto preoccupato. Se non facciamo qualcosa ma di serio sarà sempre peggio. Il centro di Cremona si è spento parecchio e poi se succedono queste cose, a maggior ragione, la cosa si complica. Io ho paura a volte alla sera a uscire. Non mi fido più a uscire da sera, anche semplicemente andare al supermercato. Comincio a avere un po' di paura.